ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo video a gran richiesta di un mio iscritto al canale il signor manini che ringrazio di cuore enormemente per essere iscritte essersi iscritto di recente per sua gran richiesta dicevo mi chiedeva di effettuare una recensione abbastanza precisa ma soprattutto tecnica quindi con plugin dopo l'ausilio e l'aiuto di plugin doctor come faccio di solito io per farvi vedere alcuni plugin che ancora non vi ho fatto vedere della plugin alliance scusate il gioco di parola ma questi sono plugin e la dte e la commercializzante si chiama plugin alliance quella di dirk urich sappiamo bene il tedesco è una ditta tedesca di commercializzazione di dirk urich è però anche il ceo non solo di plugin alliance o meglio il maggior azionista di plugin alliance ma anche il ceo di brain works che è una nota ditta che c'è secondo me da una ventina d'anni che effettua e realizza plugin fatti molto bene diciamo che la maggior parte di quelli che si vendono sul sito di plugin alliance sono poi realizzati dagli ingegneri della brain works attenzione comunque poi ci sono anche altri marchi tipo l'indel tipo altri piccoli marchi tipo adesso il la kive audio eccetera eccetera ce ne sono altri che adesso non mi vengono in mente ma diciamo la maggior parte sono quelli di brain works quindi lavora molto bene infatti vedete brain works il signor manini gentilmente mi chiedeva di effettuare la recensione di alcuni compressori e di alcune macchine o scatole come vengono chiamate in rete nei vari blog scatole di colore che non sono le scatole da tinteggio dei muri delle case ma scatole per dare colore alle nostre tracce audio quindi scatole che creano armoniche che che aggiungono armoniche che saturano il suono aggiungono armoniche tipo il de wang de owen il forno fatto di recente appunto è promosso di recente dalla plugin alliance quindi farò una serie di video dove partirò dal ton house bus compressor ma farò anche il de owen e gli altri compressori barra saturatori scatole di colore che il signor manini mi consigliava di fare partirei con appunto il brain works bx ton house bus compressor cos'è questa macchina qua questa macchina qua non è altro che un compressore che è stato realizzato rec e formato rec da da un rec perché i rec messi così in orizzontale potono essere da un rec da due rec che erano il doppio da tre rec o da quattro rec alcuni rec molto spessi e comprendevano appunto quattro rec come di me quattro singoli rec come dimensioni questo era monorec quindi aveva le dimensioni di un rec messo in orizzontale e era stato realizzato dagli studi motown che sono studi molto famosi direi famigerati quasi come gli abbero studio a londra c'è anche i ton au i motown sono direi abbastanza conosciuti abbastanza famosi negli studi motown sono stati registrati diversi album rock funky afro cioè ci hanno registrato veramente in tanti e gli ingegneri della di questi studi questo studio motown all'epoca erano un po esuberanti un po tutto fare come gli ingegneri poi guarda caso degli studio a beru studio che vi ho appena è nominato anche loro anche i loro ingegneri erano molto esuberanti molto brillanti avevano parecchie idee idee e anche quelli della motown a un certo punto vollero nella loro nel loro studio a far parte della loro attrezzatura per poter appunto registrare i vari artisti dell'epoca volevano un ssl compressor un compressore ssl che però si trovava nei banchi ssl il busco il bus compressor vi ricordo è un compressore che si trovava nel nel banco della serie g ssl 4000 g bass compressor che era in quei banchi lì non esistiva singolo in versione rec gli ingegneri della tona della motown a un certo punto cosa dissero no che chiamarono gli ingegneri delle ssl e gli dissero guardate ve lo paghiamo quello che che volete anche fior di quattrini non ci interessa quanto dovremmo spendere ma vogliamo un compressore ssl tra le nostre attrezzature ma non lo vogliamo sul banco cioè non vogliamo prendere il tutto il banco una o una porzione di banco dove all'interno c'è il vostro ssl bass compressor lo vogliamo estrapolare vogliamo che voi ssl lo estrapoliate dal banco e ci forniate gli elementi per crearci un rec la ssl così fece mandò gli elementi che componevano il ssl bass compressor alla motown e gli ingegneri della motown se lo montarono di loro in un rec ripeto da un'unità un rec come dimensione come questo ricreato digitalmente con il v meter ssl i potenziometri vedete della stessa fattura e degli stessi colori trovati appunto sul banchi ssl eccetera eccetera ho fatto questa premessa un po lunga chiedo scusa ma era doverosa per farvi capire da dove nasce l'esigenza di un ssl fuori dal suo banco per il quale nasceva ed era stato inglobato e perché l'hanno fatto rec sono stati gli ingegneri degli studi motown che lo vollero permetterlo appunto schiaffarlo appunto sulle loro composizioni sulle loro tracce gli piaceva il suono ma non avevano i banchi ssl quindi chiesero un ssl scorporato dal banco allora andiamo a vedere lo spento lo accendiamo questa è la sua firma sonora classico delle macchine analogiche o delle emulazioni ricreate fedelmente delle macchine analogiche un leggero roll off tipo un shelving che comincia appena appena calare e comincia qui intorno ai 4000 5000 hertz cala e poi fa questo scherzo qua questa semicurva qua e un roll off anche qui che parte intorno ai 99 100 hertz molto dolce molto musicale e molto blando giungerei che va a finire intorno ai 2,7 hertz frequenze che neanche noi sentiamo perché cominciamo dalle 20 andiamo le 20.000 sappiamo tutti che il nostro range 20 20.000 sotto i 20 hertz e sopra i 20.000 hertz non sentiamo nulla quindi un roll off che hanno alle nostre orecchie porta poco interesse non neanche lo percepiamo però sappiate che è così e sappiate che sì è vero che da 20 da 20 hertz in giù non sentiamo niente ma qui comincia prima vedete i 20 hertz sono qua ma in realtà vi ho detto che comincia intorno ai 100 hertz a calare e fino ai 20 hertz questa porzione la sentiamo quindi questo leggero calo ce lo abbiamo in realtà attenzione quindi questa la sua firma sonora andiamolo a vedere a livello di armoniche u allora vedete che genera un po intanto di rumore e questo rumore e sarà il rumore effettivamente campionato dalla macchina ma vedete che abbiamo il v gain voglio vedere se col v gain abbasso un po col rumore lì si vgain sarebbe virtual gain vedete che se io lo porto a meno infinito si ce l'ho comunque un pelino di rumore ma guardate siamo abbondantemente sotto ai meno 175 decibel non lo sentiremo e non lo percepiremo mai ma se lo andiamo a mettere a default quindi control e clicco lo mettiamo default ce lo da meno 100 decibel e in effetti un po di rumore c'è quindi attenzione se non vogliamo generare rumore lo mettiamo tutto zero o addirittura così è default meno 100 ma lo possiamo aumentare portare a meno 70 in realtà vedete meno 70 è qua sarebbe qua quindi in realtà lui indica meno 70 al v gain ma in realtà nella sua parte più alta che qua siamo a meno 106 però meno 106 comincia a essere un rumore che secondo me comincia a essere abbastanza percepibile a default quindi a meno 100 chiedo scusa a default quindi a meno 100 noi siamo in realtà andiamolo a vedere qualche la parte più alta siamo meno 136 se lo lasciassimo anche default non saremmo tanto in grado di percepirlo è ancora abbastanza basso però ripeto lo possiamo abbassare ulteriormente per questioni di video io lo abbassero tutto perché così non abbiamo questo rumore che ci copre le armoniche che ci dà fastidio vedete appunto che si generano una due armoniche rispetto alla mia fondamentale 1000 hertz a meno 18 db full scale cioè digitali che mando dentro alla mia macchina emulata il mio plugin e quindi il v meter che questo dovrebbe segnare 0 anzi questo è il v meter da soli decibel della compressione non abbiamo un v meter in realtà per che ci indichi l'input del segnale alla macchina però se ci fosse segnerebbe 0 decibel analogici e quindi dicevo 1000 hertz genera tutto default una armonica a 2000 che è una multipla della mille della mia fondamentale mille quindi secondo ordine pari la prima armonica e una seconda armonica esattamente a 3000 hertz che non è un multiplo di 2000 perché il doppio di 2000 sarebbe 4000 e non è neanche un multiplo di mille perché il multiplo di mille di mille punto 2000 e di 2000 4000 quindi è terzo ordine dispari quindi la prima armonica che è anche la più alta la più preponderante pari e una seconda armonica dispari queste sono le armoniche che aggiunge a default poi proviamo senza comprimere nulla vedete che qui la stanghetta rimane sullo zero non sta comprimendo ancora nulla adesso io provo a mettere un attacco lento e una release velocissima a 2 a 1 come rapporto proviamo andare a comprimere quindi cominciamo a far muovere laghetto insomma ok sta cominciando a comprimere e vedete per pochissimi decibel guardate come è cambiata la situazione armoniche da due armoniche a quando cominci a intervenire vedete e guardate man mano che io regolo la threshold guardate il balletto delle armoniche lo sbilanciamento e il dislivello di volume tra un'armonica e l'altra quello che io chiamo il balletto delle armoniche guardate guardate come si muovono e ogni balletto ogni cambiamento è un tono diverso ovviamente guardate che roba man mano io comprimo qui sono circa 4 decibel di compressione guardate quanta roba aggiunto andiamo 8 decibel quasi 8 decibel di compressione ne aggiunge parecchio di roba sono due per e sono al massimo con la threshold voglio solo fare una comparativa con il 4 allora 2 a 1 è così 4 1 non cambia tantissimo dice 1 no tutto threshold a meno 20 e cambiando i rapporti 2 4 10 la rete io vedo che non cambia tantissimo mentre proviamo lasciarlo 4 se cambio la velocità di attacco invece dovrebbe cambiare qualcosa infatti già 10 ne aggiunge di più a 3 ne aggiunge di più ancora a 1 ancora di più a 0 3 ne aggiunge ancora di più 0 1 ancora di più questo cosa vuol dire significa che man mano diminuisco i millisecondi di attacco quindi rendo il compressore più veloce alla reazione dei transienti che entrano dei picchi che entrano nella macchina e che devono essere compressi quindi più lo rendo veloce reattivo più le armoniche aumentano perché mi va a sbattere il suono contro un muro diciamo un limite che in questo caso impostato 4 qua è a 2 ma se lo metto 10 non è limite ma insomma ci va abbastanza vicino quindi muro di mattoni e quindi picchi vengono segati e si erano più armoniche ovviamente adesso lasciando la velocità al massimo e sempre 4 1 la reti o provo diminuire ad aumentare invece la release così è velocissima 0 3 la rendo un pelino più lenta 0 6 e vedete che un po cambiano 0 6 un pelino più lenta un secondo e 2 ancora più lenta automatico 1 e 2 che la situazione più lenta vedete che le armoniche sono calate rispetto quando lo lascio velocissimo ok quindi genera più armoniche con release più veloci quindi attacchi release più veloci generano più armoniche e più alte più più come numero e più alte come ampiezza come volume teniamolo in considerazione ovviamente poi abbiamo le drum che a default è a 0 decibel ma se noi le drum di una macchina analogica vera e questa è un emulazione quindi emulano anche quello anche nel plugin e la brain works ma nelle drum di una macchina vera cos'è è il suo tetto massimo in cui se superiamo quel limite quel tetto massimo che ha quella particolare attrezzatura analogica comincia a saturare quindi più do headroom a una macchina più vuol dire che allontano il tetto massimo in cui comincia a saturare quindi io posso alzare di più l'input che fa entrare il mio segnale alla macchina senza dovermi preoccupare se alzo le drum come dicevo senza dovermi preoccupare che questo schiacci il suono troppo presto mentre se abbasso le drum cioè la riduco vuol dire che abbasso questo limite la macchina mi saturera prima perché ha meno limite lo dice la frase stessa è drum più basso vuol dire meno limite quindi si raggiunge la saturazione più facilmente è drum più alto alzo il limite aumenterà la capacità in ingresso della macchina di ricevere suoni più alti senza andare eventualmente incontro al pericolo di saturazione barra distorsione barra aggiunta di troppe armoniche ok questo è il discorso della drum quindi se io adesso a default è 0 ma lo vado ad aumentare vedete che mi aumentano un pochino mi diminuiscono un pochino le armoniche guardate qua sono più alte se lo vado ad aumentare vedete che mi cala un po' tutto il discorso qui torno a 0 ma posso anche diminuirlo ripeto di default a 0 se diminuisco la drum quindi abbasso il limite in cui appunto c'è più pericolo che il mio suoni in ingresso vada a sbattere contro il muro e quindi mi venga saturato barra schiacciato vedete che se l'abbasso le armoniche dovrebbero aumentare se il mio discorso è corretto allora vedete sono 12 se abbasso le drum chiaramente comprime di più perché ripeto abbasso la sua capacità di di raggiungere quel limite per cui la macchina poi comincia a saturare in realtà non ho visto una grande differenza però vedete che comprime di più schiaccia di più con la threshold sempre al massimo anzi sembra che un pochino le armoniche si abbassino anche diminuendo le drum comunque il discorso è quello le drum di una macchina vi garantisco è quello non ci piove in questo caso diminuendo la dovrebbero alzarsi un pochino le armoniche o comunque generarsene delle nuove cioè dovrebbe saturare di più in realtà qua visivamente non me lo fa vedere ma secondo me tutti gli effetti è così ragazzi poi abbiamo a b c d che sono praticamente configurazioni che io posso avere cioè praticamente sono quattro preset all'interno della stessa macchina io posso creare la configurazione a la configurazione b la configurazione c eccetera eccetera la di un'altra ancora e andarmela richiamare diventano come quattro prese posso fare quattro comparative direttamente ok questo è il ton house che ovviamente poi farò un video dove tutti questi ripeto che il signor manini mi ha chiesto di recensire media tecnicamente mediante plugin doctor poi li andrò a mettere in un video tutti insieme e sono quelli che vi ho elencato prima praticamente ok sono i tutti diciamo i compressori della plugin alliance perché fino adesso sul mio blog trovate sul mio canale trovate gli ecolizzatori ho fatto tutta la serie degli ecolizzatori della plugin alliance i compressori ancora non li avevo fatte grazie al signor manini che me lo ricorda e me lo richiede gentilmente farò tutti i compressori più tutte le scatole armoniche ok scatole di colore non vado oltre perché sono già 19 minuti se vi è piaciuto il video mettete un bel like ragazzi alla prossima ciao a tutti